Ida Platano un nuovo inizio ad Uomini e Donne con Alessandro. Ecco cosa è successo in albergo. La rivelazione a centro studio, ancora un'altra delusione per Ida Platano dopo che era ritornata nel parterre di Uomini e Donne per rimettersi in gioco e trovare nuovamente l'amore dopo la grande delusione subita con Riccardo Guarnieri, storia d'amore in cui la dama aveva creduto tanto. Dopo le frequentazioni con Marcello Messina e Diego Tavani non andate a buon fine, Ida ha iniziato la conoscenza con Alessandro. Ida Platano ci prova di nuovo, ma la conoscenza con Alessandro Vicinanza, 38enne Salernitano, sembrerebbe avere più di qualche problema. Molte le incomprensioni che si sono create tra i due nella puntata del 25 febbraio. La più importante forza è sulla distanza e sulla possibilità in futuro di trasferirsi l'uno dall'altra e viceversa, Ida e Alessandro e i problemi con la distanza. Alessandro afferma, la distanza inizia ad essere un problema, e Ida controbatte, per me la distanza non è un problema. Non lo è mai stata nella mia vita. Per lui sì. Gli ho chiesto se si trasferirebbe in futuro, mi ha detto di no, ma la distanza non sembra l'unico problema. I due hanno passato la notte insieme ma Ida ha rivelato che qualcosa non è andato. Ecco cosa ha raccontato Ida a centro studio, dopo la cena si è fermato a dormire in albergo da me. Non è successo nulla. I presupposti c'erano. Il desiderio da parte mia c'era ma non c'era quell'emozione che mi ha fatto andare oltre, Ida ha confessato che non è successo nulla in albergo con Alessandro. Alessandro ha presupposto che forse non le ha trasmesso quelle sicurezze per potersi lasciar andare. In studio tanti iniziano a pensare che Alessandro non voglia più proseguire e che c'è un motivo per cui non voglia fare andare Ida Salerno, ad insinuare che il cavaliere abbia avuto un ripensamento sulla frequentazione con Ida è stata Tina Cipollari, opinionista del programma che ha detto, mi sembra che rispetto all'inizio tu abbia avuto un ripensamento. E, successo sicuramente qualcosa, Alessandro si è allora iniziato a tirare indietro dichiarando che le loro vite forse sono troppo diverse. Ida non aspetta di certo Alessandro ed ha già preso il numero di un cavaliere presente nel parterre, Ottavio. Staremo a vedere cosa succederà nella prossima puntata tra i due e se ci sarà un riavvicinamento.